Buongiorno da Norbert amici, 26 giugno 2020, ormai anche questo mese se ne è praticamente andato, stiamo entrando in piena estate. Chi possiede il passato possiede anche il futuro. Questo è il motivo per cui vogliono a tutti i costi, con questi nuovi paradigmi di dominazione mondiale, cancellare gli anziani dalla faccia della terra. Cancellare ovviamente gli anziani del ceto medio, coloro che non contano nulla, i diseredati, ma non cancellare ovviamente chi sta a capo della piramide, che spesso sono ultra novantenni, ultra ottuagenari. Perché vogliono cancellare gli anziani? Vogliono cancellare gli anziani perché sono i custodi della memoria storica. Di quella memoria quindi che potrebbe impedire al nuovo ordine mondiale di portare i nostri soliti amici liberatori, che non ci lasciano mai soli. Dicevo perché gli anziani sono i depositari di quella che è la memoria storica, sono i depositari di tutti gli errori che sono stati fatti, sono i depositari delle battaglie che sono state combattute per ottenere la libertà, per ottenere tutti i diritti fondamentali. dell'individuo e per ovviamente ricordare che questa società in cui noi oggi viviamo è stata costruita con le lacrime e col sangue dei nostri padri. Ecco, vogliono far fuori gli anziani, vogliono far fuori gli anziani perché una volta che hanno raggiunto l'età della pensione per i cannibali che vogliono tutto il mondo, gli anziani diventano delle inutili bocche da sfamare e quindi si cerca di eliminarli perché così non essendo più produttivi, secondo la mentalità perversa di chi comanda il mondo non bisogna pagarli più la pensione, non bisogna più mantenerli. Come fare per farli fuori? Beh, non si potrà per il momento andare ancora a prelevarli dalle loro abitazioni e metterli contro un muro come facevano certi dittatori del passato ma si può invogliarli a lasciare questo mondo in maniera più o meno dolce attraverso quelle che sono le cure che lo Stato intende prendersi per loro. Il principale di queste ovviamente sono i vaccini, i vaccini antifluenzali per anziani che ormai vengono spinti da anni, vengono incoraggiati da anni dopodiché assistiamo che questi poveri anziani, dopo qualche anno che si vaccinano costantemente, schiattano. Ora c'è tutta questa febbre da vaccino nei piani alti per far vaccinare le persone over 65 chiediamoci perché, si tratta di amore? Io non credo proprio il punto è che non vogliono più pagare le pensioni vogliono l'essere umano sfruttabile fino all'ultimo giorno della sua vita e poiché sarebbe piuttosto complicato continuare a innalzare l'età pensionabile si pensa bene quindi di eliminare quella fascia di popolazione assolutamente improduttiva ma non basta gli anziani debbono sparire dalla faccia della terra perché appunto, come dicevo poc'anzi, sono depositari della memoria storica potrebbero quindi insegnare ai nostri piccoli che il mondo non è fatto solo di tecnologia non è fatto solo di materialismo e che non è affatto vero che quello che ci dice il potere che domina al momento sia per forza la verità o sia per forza giusto potrebbero gli anziani ricordare tutte le battaglie che sono state fatte nel mondo per sconfiggere le dittature e per dare alla gente un mondo migliore ecco, i piccoli tutto questo non lo debbono sapere non lo debbono imparare i piccoli dovranno diventare non più proprietà delle famiglie dove si insegnano le cose buone, le cose belle ma dovranno diventare degli automi di proprietà dello Stato tirati su quindi secondo i nuovi paradigmi secondo i nuovi dogmi dunque, prima di tutto dovremmo essere noi che non siamo più tanto giovani a non assecondare questo piano perverso proprio perché noi che abbiamo una certa esperienza di vita abbiamo capito come funziona il sistema di questi cannibali, di questi vampiri perciò anche questa emergenza pandemia infinita che si rinnova giorno dopo giorno sulla carta stampata ovviamente e solo su quella è un metodo di governo dovremmo cercare di farlo capire prima di tutto ai giovani dovremmo cercare di farlo capire soprattutto a quelli che per la prima volta si prestano ad andare al voto ammesso che ce lo concedano ancora perché a quanto pare qua ho l'impressione che si voglia andare avanti con i governi tecnici perciò un altro dei pericoli da tenere in considerazione oltre a quello dell'abolizione del contante ci renderà tutti schiavi di un sistema bancario oltre a quello della gestapo sanitaria che si vuole avvelenare con il loro cocktail di veleni che si chiamano vaccini l'altro pericolo appunto è quello della cancellazione della memoria perché si vuole far calare una mannaia tra le nuove e le vecchie generazioni in modo da resettare completamente la memoria storica e da riscriverla ex novo da riscriverla da capo questo è il mondo nuovo oltretutto che era già stato anticipato nei classici come appunto il mondo nuovo di Huxley è inutile che citi ancora una volta in 1984 una società distopica una società dove non c'è più libertà e dove i sudditi a un certo punto consumata la loro vita dovranno essere terminati ma durante questa loro breve vita da schiavi dovranno imparare ad amare la loro stessa schiavitù la loro stessa schiavitù la loro stessa schiavitù è la loro stessa schiavitù Grazie a tutti.